Ciao, benvenuto o benvenuta sul canale! Allora, oggi eccomi con il nuovo, primo svuoto alla spesa Conad del 2021. Allora, sono tornata al Conad, nonostante io abbia già fatto una bella spesa da MD qualche giorno fa, perché volevo soddisfare le richieste dei miei cucciolotti, che mi hanno chiesto qualcosina che vedrai qui di sfilare dalle buste, ed ho trovato piacevolmente tante offerte, tanto bis, e quindi tanti prezzi vantaggiosi, e ho approfittato di qualche prodotto di cui necessitavo. Ti faccio vedere subito cosa ho preso. A fine video ti mostrerò anche i premi Tupperware che ho ritirato, avendo accumulato i bollini, insomma, durante il 2020, e quindi questi sono gli ultimi premi che sono andata a prendere, finalmente sono arrivati. Se vorrai anche tu richiedere qualche premio con la raccolta dei bollini, ti ricordo di farlo entro il 26, perché poi non sarà più possibile farlo, ci saranno nuove raccolte, quindi ecco, so che fino al 26 si possono richiedere questi premi. I primi prodotti che ti mostro ce li ho qui sotto, sono questi due pacchi di minestrone, sono andata proprio diretta a prendere minestrone, ho trovato questo bis, diciamo, due al prezzo di uno, e quindi ho voluto approfittare. Poi una burratina, questo è uno dei prodotti per i quali sono andata proprio spedita al Conad, perché appunto Dario me l'aveva chiesta, piace moltissimo anche alla vigna, comunque la mangiamo tutti ecco. Quindi oggi a pranzo burratina. Poi una confezione di petto di pollo intero, non era in offerta, a 7,45 euro il chilo, un bel petto di pollo che andrò poi a preparare, a fettine, insomma a congelare, e niente, poi ci farò anche penso un brodino, magari proprio per stasera, adesso non ci penso. Poi una ricottina, questa è la centrale del latte dei rieti, buonissima, a volte è un po' più compatta, a volte è un po' più lattiginosa, più morbida, comunque è sempre molto buona, e quindi ne ho ripreso una confezione. Poi pancetta tesa, stagionata, center, ho voluto prendere questo trancetto, e che sarà utile per le varie preparazioni, quando posso la scelgo senza pepe aggiunto, poi alle varie preparazioni vado magari ad aggiungerlo, a macinarlo al momento, però preferisco ecco dosarlo io, anche perché evito ecco di fare dei cibi troppo troppo pepati, anche per i bambini, insomma. Poi due litri del nostro latte di fiducia, della centrale del latte di rieti, che avevo dimenticato nella precedente spesa, ma comunque poi abbiamo rimediato, l'abbiamo comprato al bar, e poi avevo comunque quella lunga conservazione, quindi di latte non siamo mai spruvisti, o quasi mai, diciamo. E questo buonissimo, niente da dire. Poi, Robiola Osella era in offerta, ho voluto prenderla, anche per una pasta, ma anche consumata così, ecco, semplice semplice, vicino a due affettati, insomma, un passo ecco così veloce, per accompagnare magari un primo, con un po' di insalatina e via. Poi, ecco, una richiesta, un'altra richiesta dei bimbi, avrebbero voluto questo Super Mario, yogurt zuccherato, con preparazione alla fragola e confettini, questi ogni tanto li compro perché li gradiscono molto, l'ho preso sia, appunto, alla fragola, giusto, sì, che un'altra alla fragola, e poi un'altra ancora alla banana, per variare, insomma, e quindi questi oggi li faranno contenti. Poi, una confezione di yogurt greco, in genere io acquisto questa tipologia con miele e noci all'MD, ma mi trovavo al Collard, l'ho trovato, e anche non avendolo mai provato, ho deciso di acquistarlo, mi ha acquistato una confezione appunto perché mi sembra che sia la versione magra, di yogurt greco magro, ma forse anche quello dell'MD è comunque magro. Però, ecco, non avendolo mai provato, dico, intanto le rifaccio provare una confezione, e poi, se piacerà, insomma, quando mi troverò da Wagonand potrò riacquistarlo, anche se devo dire che ha un prezzo superiore rispetto a quello che acquisto io da MD, perché siamo quasi... all'incirca costa 1,70€, quando invece l'MD lo pago 1,09€, 1,19€, una cosa del genere, a prezzo pieno. Poi, due confezioni di iocca, ecco i fiocchi al latte che mi aveva chiesto Dario, e quindi sono corsa ai ripari, e quindi ho voluto accontentarlo. Poi, Yomo, c'era la promozione appunto del bis sullo Yomo, e quindi ho voluto approfittare e prendere che sia questo con agrumi di Sicilia, poi intero con caffè, intero con ciliegie ed amarene, e intero alla vaniglia. Tutti i gusti che comunque ci piacciono molto. Lo Yomo poi è uno tra i miei preferiti, il Müller immancabile, adesso manca, però ho preferito approfittare di altro, e poi non c'era il Müller intero, che prendo normalmente, insomma, quello con la confezione blu, e quindi ho deciso di passare questa volta. Poi, vuoi, di Citerio, queste due confezioni di Wurzer, che sono sempre comodi, e poi, Babybel, la vignuccia ha chiesto, i Babybel, questa volta li ho trovati, perché non sempre riesco a trovarli al Conad, non so perché, ma a volte non ci sono proprio. E poi, sempre in offerta, avevo trovato anche il Galvanino, e ho voluto approfittare. Era da parecchio che non lo riacquistavo, però è un formaggetto, insomma, che mangiamo sempre volentieri, a parte Dario e Matteo, che con i formaggi duri vanno poco d'accordo. Poi, due belle confezioni di patate, questa volta ho voluto prendere le patate rosse, questa è un marchio Conad, percorso qualità, e prodotto italiano. Questa volta ho voluto provare queste. Poi ho preso un volantino, sempre da sbirciare, e poi tornerà utile anche per accendere il fuoco. Continuano sempre con qualcosa di fresco. Ho preso due gallinelle, che andrò a preparare questa sera, con un sughetto molto veloce, con aglio prezzemolo, un po' di origano, un po' di timo, e per fare anche due spaghettini. E quindi, ecco, sarà il nostro primo e secondo di questa sera. Poi, e l'ho pagata, l'ho pagata, 8,89 euro il chilo. Poi, negroni, c'è il bis anche su questi affettati, e quindi ho voluto approfittarli, ho preso il prosciutto cotto, alta qualità. Non l'ho mai provato, almeno non che io ricordi, però mi sembrava bello il taglio, insomma, e ho deciso di acquistarlo. E poi, al banco del fresco, ho preso, oltre la burratina, anche il prosciutto crudo, sempre semidolce, dolce capriccio si chiama, a 18,90 euro il chilo. E poi, altro bis, due confezioni di mozzarella Santa Lucia, sono tre bocconcini da 125 grammi, mi è sembrata vantaggiosa l'offerta, poi in genere ci troviamo bene, e quindi, quando questi prodotti sono in offerta, li acquisto volentieri, anche se la nostra mozzarella, il nostro prodotto del cuore, è quello della centrale del latte di Redi. Poi, Susanna, by Sottilette, questi formaggini che, mi ricordano troppo la mia infanzia, e, io e mia sorella, ne consumavamo, a vagonate, soprattutto lei, era amante, del formaggino nella minestra, ma mi ricordano troppo, quei momenti insieme, sono nostalgica, sono romantica, e quindi, e quindi ecco, non me li faccio mai mancare, poi devo dire che sono buoni, qui, li apprezzano tutti i bimbi, per cui, bene così, insomma. Poi, una confezione di pane, ho preso sempre il filoncino, quello sciapo, quello senza sale di ponticelli, sempre molto leggero, è un pane eccezionale, da rito non è abbastanza del panettone, e mi ha chiesto di tornare a comprarlo, se lo avessi trovato, e quindi, avendolo appunto trovato, anche a un ottimo prezzo, perché mi pare di averlo pagato, 1,95 euro, ho preso questo, che è tra l'altro il suo preferito, senza canditi, con uvetta, e, io e lui siamo partiti di panettone, quindi, gli farò compagnia, durante la colazione, noi vogliamo gli snack in giornata, e poi, due litri di granarolo, anche qui il bis, quindi convenientissimo, a 1,29 euro, tutti e due le confezioni, e poi, il bis anche sullo svelto, la mia prima scelta, in fatto di detersivo per i piatti, sempre ottimo, delicatissimo, molto sgrassante, ne basta poco, si rimuove molto facilmente, dalle stoviglie, è ottimo, e poi, finocchi, beh, erano belli, freschi, sodi, insomma, i maschioni, che piacciono, che piacciono a me, e quindi ho deciso di riprenderli, anche per rifarli gratinati, con la besciamella, e quindi, assolutamente, mancavano, poi, ero rimasta senza, la mia camomilla, e quindi, sono corsa ai ripari, e, questa è, è sempre molto pratica, confezionata singolarmente, io preferisco le confezioni singole, e, e niente, è buona, è gradevole, alla sera, una chisana, o una camomilla, che sta sempre bene, attualmente, sto amando tantissimo, le chisane frutti rossi, per la sera, che, sono comunque coccolose, buone, poi, Calvert Classica, è quasi terminata, insomma, quella che avevamo in utilizzo, che aveva preso, mio marito, a marchio Conard, che non, non mi ha dispiaciuta, però, preferisco, anche, questo tipo, proprio, di, di formato, diciamo, e, anche se, devo dire, che si fa un po', fatica, quando è quasi terminata, a farla scendere tutta, quindi, ci si deve aiutare, però, è molto, lo trovo molto, molto pratico, poi, Mais Conard, queste lattine, così, piccine, le trovo comodissime, perché, si possono aprire, consumare, nell'immediato, e, quindi, ecco, le tengo sempre, di scorta, e, poi, 10 uova fresche, medie, allevate a terra, anche queste, le ricompro, le ricompro, ogni volta, che vado, da Conard, e, una, un pacco, insomma, da un chilo, di farina, di tipo zero, che, essendo, un pochino, meno, diciamo, raffinata, rispetto, alla doppio zero, vado a preferire, ovviamente, per la pizza, quando, non utilizzo, la farina, per lunghe lievitazioni, ma, anche per i dolci, devo dire, che, ultimamente, ecco, sto acquistando, più farina zero, piuttosto che zero zero, perché, appunto, meno raffinata, per cui, la, la preferisco, e, basta, credo, che la, spesa, sia, terminata, io, ho speso, ti faccio vedere subito, ho speso 85 euro e 31 centesimi, che mi sembra, comunque, un buon prezzo, data la mole, insomma, di, di prodotti, che ho acquistato, e poi, come promesso, ti faccio vedere, i premi, che ho, ritirato, allora, appunto, con i bollini, che si raccoglievano, durante l'anno, e che, venivano accumulati, ogni 15 euro di spesa, quindi, ad ogni 15 euro, veniva, dato, un bollino, e poi, c'erano, dei prodotti, specifici, che, davano, la possibilità, di accumulare, più, bollini, sulla spesa, già, avevo richiesto, dei premi, che, ti avevo anche mostrato, in qualche precedente, sua, dalla spesa, a Conad, forse, ce n'è uno, che, non ti avevo fatto, ancora vedere, mi pare, si trattasse, della, della bottiglina, quella, 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 da 750 ml, blu, però, non ce l'ho qui con me, perché, ce l'ha sempre dietro, Dario, che la porta a scuola, invece, altra bottiglina, che è arrivata, è questa qui, con l'animaletto, con, questo, mh, leoncino, l'altro, mi pare sia un pinguino, e ce l'ha adesso in utilizzo, Matteo, la porta a scuola, nello zainetto, ed è verde, invece, questa, appunto, è gialla, io la trovo graziosissima, tra l'altro, ha, un tappino, che, mh, è, mh, abbastanza, duro, diciamo, da aprire, e da chiudere, però, quindi, magari i bambini, vanno un po' aiutati, mh, mh, evita, appunto, delle fuoriuscite, mh, accidentali, di acqua, magari, se si viene in borsa, e quindi, mh, lo trovo veramente, mh, ben studiato, mh, poi, altro, mh, premio, questo, in questa confezione, si chiama Scaldasano, ed è praticamente, un, porta pranzo, io, avevo necessità, appunto, di cambiare il porta pranzo, per mio marito, perché lui porta sempre, il pranzo da casa, appunto, e quindi, ho deciso di approfittare, qui c'è la brochure, con tutte le indicazioni, che poi andrò a vedere così, per curiosità, ed ecco qui lo Scaldasano, i colori sono belli, vivaci, vitaminici, anche se io preferisco, sempre quelli più tenui, il begiolino, il grigino, però, sono, obiettivamente, molto festosi, molto allegri, e, ecco qua, è anche abbastanza capiente, diciamo, forse anche troppo, me lo aspettavo un po' più, piccolino, questo è il coperchio, ed ha la possibilità, di portare queste, queste posate, che non so se utilizzerà mai, onestamente, che vanno inserite qui, in questi due spazi, e poi, ho voluto prendere anche questa ciotola, avevo già preso l'altra in versione più grande, che non ricordo se fosse da 4 litri circa, questa è da 2,5 litri, l'altra è la lilla, violetta, insomma, questa invece, è di questo bel color corallo, e, sono sempre comode, comunque, e quindi, ho deciso di approfittare, perché, oltre ai pollini, con un piccolo contributo, ecco, si hanno dei prodotti, veramente di qualità, perché Tapperware, fa veramente dei prodotti, di qualità, e quindi, contentissima, poi, ultimo, ultimo, premio, questo set, per il congelatore, si chiama set congelatore di pinguino, da 5 pezzi, che immagino, non siano grandissimi, a giudicare, dalla confezione, sono 3, impilati uno dentro l'altro, allora, il primo, ecco, è di questa grandezza, comunque, non è piccolissimo, poi, due, sono più piccini, poi, ce n'è un altro, della stessa grandezza del primo, eccolo qua, e l'ultimo, è quello, più grande, più rettangolare, un po' più basso, eccolo qua, li trovo veramente comodi, questo è il tappo verde, e i tappi sono tutti colorati diversamente, questi due sul fucsia, e questi sull'arancio, questi mi torneranno molto utili, per le varie preparazioni, che vorrò conservare in congelatore, basta, direi di averti mostrato, tutto quanto, se vorrai anche tu, richiedere uno di questi premi, lo potrei fare comunque, entro il 26 gennaio, così diceva la Castella questa mattina, alla Conad, e appunto, aggiungendo un contributo, ai bollini accumulati, si può richiedere entro il 26, e poi si attende, insomma, il tempo necessario, io ho atteso più del previsto, perché fino al 7 gennaio, praticamente, c'è stata la sospensione, dell'erogazione dei premi, forse perché c'è stata molta affluenza, e quindi, per evitare code, ed altro caos, hanno evitato appunto, di consegnare anche i regali, ti ho mostrato tutto quanto, a proposito, ne approfitto, per darti un'informazione, di servizio, chiamiamola così, in infobox riporto, il make up indossato durante il video, alcuni tra voi hanno appunto, espresso, comunque, delle curiosità, circa soprattutto la base, che indossavo in alcuni video, quindi, mi hanno visto dei fondotinta utilizzati, e quindi ho pensato, che magari, potesse essere carino, così, inserire, ecco, i prodotti principali utilizzati, per il make up del video, in infobox, quindi, trovi tutto qua sotto, spero che il video, ti sia piaciuto, ti sia stato utile, in qualche modo, e se così fosse, lascia un pollice in su, iscriviti al canale, e attiva la campanella, se non puoi perdere nessuno, dei miei prossimi contenuti, io sarei felicissima, di ritrovarti qui, nel mio prossimo video, ti mando un abbraccio, un bacione, ciao! Ciao!